Ciao Gregorio, ti rivediamo in campo in un torneo ufficiale, quello di San Giovanni. Grazie, grazie, sei sempre gentilissimo, vedo che mi accogli con tanta enfasi. Anche perché sono un tifoso della San Giovanni. Io sono sceso qui più che altro per dare un segno che ci sono, che ci sono in tutti i campi, ci sono nel campo sociale, nel campo dell'educazione, nel campo della formazione, nel campo perché ritengo che lo sport non è altro che formazione, è cultura, quindi formare i giovani attraverso lo sport, nei principi sani, a riconoscere i valori veri della vita. E questo è uno dello sport, educarli alla convivenza civile attraverso lo sport. Tra l'altro anche in politica, perché sei un cittadino di meno grande. No, la politica siamo la star, stasera. Non parliamo di politica? No, non parliamo, ne parleremo nelle sede competenti, venite nei consigli che vedrete il nostro operato. Io ci sarò. Grazie e buon divertimento.